Cuneo che adesso inizia e torna a far punti, Nizetic, Hancock tagliato cortissimo, l'attacco di Ivejkovic come si è allungato a Sansonna, vale un punto questo suo miracolo, poi Mlacardi là in Bagger, ancora Markovic, ancora Sansonna, l'attacco di Diulio, c'è Zannoni, lotta tra liberi, Vane che Basilieva profonda a coprire posto 6 poi dalla seconda linea su Zannoni, la può rigiocare, sempre Hancock, per Diulio in parallela, ancora il livello di cui l'applaudita, Nizetic, money out! Grande scambio questo che sembra la fotocopia di quello del secondo set, ma questa volta ad avere la meglio nella formazione di casa, pubblico in delirio perché ha potuto assistere veramente a colpi eccezionali.